Ed eccolo che avanza, lui cosciente della chiamata del Signore, e noi tutti che nulla sapevamo. Si prepara il sacrificio della Messa. Tante rose rosse, duemila rose rosse intorno a quell'altare di Santa Maria delle Grazie. Sapevano di sangue, e sapevano di speranza, e sapevano di preghiera. Profumavano di amore ed erano accessi al sacrificio. Domane figlio il giorno di Gesù, domane avevo sognoste a filo di Padre. Si toglie il saccadamone, si toglie il saccadamone, si toglie il saccadamone, si petta la pregazione del nostro. Qui si è rossa da destra, non fanno smettere l'uomo. Qua è una toglie il saccadamone, la toglie il saccadamone, la toglie il saccadamone, la toglie il saccadamone. Significava rivivere la passione e la morte del Signore. Quella passione e quella mistica morte che arrivi sempre con te per ottenere insieme a Lui la risurrezione e la vita per tutti noi. Il sacerdote che celebra la Missa è il nostro Signore. A Lui è data l'infinita onnipotenza del Padre, la sapienza del Figno e la santità del Divino Spirito. Ma verso l'altare, come Gesù andava verso il Calvario portando il peso della croce. Per parte Dio alla Missa, era una sofferenza vera, profonda, sentita, in tutte le fibre del suo essere. Le d'ingannato sesso del Signore, lo stanno dicendo di vita, nel tomo fatto testo. Lui di qui su sece, per non visto quanto è brillato, ma su sece, è decimo testo. E c'è il suo recito testo, a via, secondo la scrittura, che l'ascendere in cielo, ma se da adesso non parli. E c'è il suo recito testo. E c'è il suo recito testo. Il bianco lenzuolo del corporale si appresta a ricevere il calice del Signore, simbolo di colui che tutto il suo sangue è nato per l'umanità. Accetto, Padre Santo, Dio mio potente ed eterno, e so se immacolata che indegno tuo serro offre a te, mio Dio, vive vero. Su quella patena, Padre Dio, raccoglievi tutte le nostre anti, i nostri sospiri, i nostri desideri, le nostre preghiere, e gli offrivi con Gesù all'Eterno Padre. Si vede in quella mano sinistra il sangue che è uscito dalla piaga. Sono le ultime gocce di sangue, Padre Dio, che escono per noi. Il tuo segno di croce è come il segno di croce fatta dall'ala di un'angelo. Le tre braccia sembrano non avere più la forza degli uomini, perché ormai sono abbandonate al base di Dio. Una mese di Padre Dio era una continua meditazione, meditazione a cui partecipava tutto il suo essere. Come poteva il Signore non ascoltare le parole del suo servo? Sacerdote del Signore, come è grande la tua missione. Posto fra cielo e terra, tu congiungi la terra al cielo e il cielo alla terra. La misericordia di Dio ai peccati degli uomini. Il pianto degli uomini al sorriso di Maria, e da Maria su verso il cielo. Ecco il momento più intenso, il momento in cui il celebrante si prepara a sacrificare il Signore. Lo diceva Padre Dio. Ecco il momento culminante di tutto il sacrificio della Messa. Padre Dio lo sa, e con quelle parole rinnova la passione del Signore, crocifigge il suo Dio, procura al suo Dio di nuovo la morte, in modo mistico ma reale, e rinnova il sacrificio della croce. E siccome Gesù non può morire, è Padre Dio che muore. E così innalzi il calice del sangue del Signore. Questo sangue è sparso per gli uomini, anch'io, tuo fedele servo, l'ho sparso. Non ce n'è più di sangue, Signore. Puoi raccogliermi in cielo, perché più nulla ho da dare alla terra. Tu hai voluto che tutto io potessi dare, tutto mi hai fatto dare. Che questi figlioli, da questo sangue, raccolgano frutti di speranza. Ti adoro, sangue di Cristo, unito al tuo corpo. Quel giorno della precipizione, quel sangue era separato dal corpo tuo. Come in questo momento, nelle apparenze esterne, è separato il vino consacrato e il tuo sangue dall'osso consacrato e il tuo corpo. Nell'uno e nell'altro c'è corpo e sangue, ma gli occhi degli uomini li vedono distanti. Così, Signore, tra pochi momenti, tra pochissime ore, l'ultimo sangue che mi è rimasto sarà separato dal mio corpo. O Gesù che nel giorno della resurrezione, possa insieme essere riuniti per la tua gloria. L'immensa commozione fa versare lacrime, pare Dio, lacrime che vorrebbe nascondere. Nosa preghiera, valla Madonna, Maria, copri col tuo manto le mie lacrime, affinché i miei figlioli non abbiano a essere troppo adolorati. Nosa preghiera, valla Madonna, Maria, e si spezza l'ostia come l'ultimo grido della vita. Così si è spezzata, dato a vita Gesù Redentore, così si sta spezzando la mia. Sarò spezzata, sarò infranto, piangeranno intorno a questa mia salmo, Signore. se è l'ultima volta che ti sfingo fra le mie mani, prima che tu possa springere la mia anima al tuo cuore. Un giorno verrà che mi abbraccerai di nuovo a Gesù nella gloria dei Santi, nel giorno della resurrezione. O Gesù, vieni per l'ultima volta nel mio cuore, nel cuore del tuo servo, in questa intima comunione che è di terra e di paradisa. La tua carne è nella mia carne, il tuo sangue è nel mio sangue, il tuo abbraccio è nel mio abbraccio. Io mangio a te, tu mangi a me, e formiamo una cosa sola. O Gesù, a rivederci appresso, sai, tutti questi figlioli che stanno qui intorno, che fanno festa, non ne sanno nulla, stanno pregando, sperando. Ho lasciato loro un testamento, una missione, un mandato. Signore, fa che sia sempre con loro. Gesù, ti ricorda la mia prima comunione? Ora questa è l'ultima mia comunione. O dolce Gesù, a rivederci fra poco in paradisa. Dovide, Signore, questo pezzetto di ostia si è unito al tuo sangue dentro al calice. Anche l'anima mia sarà unita alla tua. Abbi pietà di me, peccatore, Gesù, come faccio io, piccola cosa, a ricevere il creatore del cielo e della terra. Batto il petto con la mia sanguinante mano. Signore, purificami da tutte le mie colpe. Guarda tutta la mia vita. Ho cercato di amarti. Tanto poco, Gesù, ma quel poco era tanto. Oh, Signore, ho quasi paura che tu sei dentro di me. non manifestare tutta la tua potenza, se no mi fai morire, ma ormai puoi farlo pure, perché devo morire. Tu hai bisogno di nonpirti ancora della carne, degli uomini peccatori e poveri. Hai bisogno ancora di setarti al nostro sangue. per questo è una comunione, un'unione comune con te. Parepia, insegnaci a ricevere il Signore come lo ricevevi tu, con tutta la gioia, con tutto il fremito, con tutta la speranza delle anime nostre. C'è qualcosa di grande in questa visione. Quasi quasi trascende i tempi e lo spazio. Un giorno Gesù ci sarà la grande comunione, nel giorno le giudizie. Parepia, in quel giorno saccia accanto, affinché possiamo vedere la gloria del Padre insieme con te, con i nostri occhi risorti nella luce, con i nostri cuori palpitanti nell'eternità, con il nostro sorriso. E tu, o dolce Maria, che questo Gesù hai portato nel grembo, che questo Gesù ci hai donato come piccolo pardolo, come fanciullo, come maestro, come sacerdote e vittima, datele la selezione in questo bambino. Noi prendiamo la nostra comunione. Ogni comunione è la prima comunione. E vogliamo la tua innocenza, piccolo fanciullo e giovane sposa del Signore, vestite di un velo bianco di purezza e di speranza, di santità e di fede. O Maria, salva tutte le donne del mondo e le tue creature, tutte le spose e tutti coloro che per te pregano e a te si offrono. il sorriso della giovinezza e il canto dei nostri cuori. Fortunata bambina, crescevi la tua prima comunione e l'ultima comunione data da Padre Pia. La racconterai ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Ora, Padre Pio, come vorresti essere nascosto? Che nessuno possa vedere il tuo intimo colloquio con quel Gesù che hai nel cuore. Cosa gli stai dicendo al Signore in questo momento? Forse lacrime, forse gioia, attesa trepitante del giudizio del Signore, abbandono confidente nella sua bontà, gioia assultante di vederla ancora, triste pianta di non poter abbracciare più i tuoi figli, i tuoi fratelli, le persone a te tutte care, tutte quelle che ti abbiamo raccomandato, che abbiamo messo nel tuo grembo, nel tuo cuore, guardacene tutte dal paradiso e il tuo corpo santo possa in ogni istante proteggersi. C'è quel vino e quell'acqua che non sono stati consacrati che ora stai prendendo, siamo nuove anime del mondo non consacrate come te al Signore. fa che in unico corpo riunite un'unica gloria cantino e un'unica preghiera levino e un'unico riposo abbiano. Pare Dio quanto sei stanco. Ogni mossa è un dolore ma soprattutto è un'incertezza fra stare fra terra e il cielo. Sono qua o sono là? O il cielo è disceso qui? Eh, non lo posso sapere ne aspetta la missa in paradiso. O Dio su, lasciami in pace sono i fedeli che mi guardano se la macchina è aprisa che sta puntando l'obiettivo su di me se tu mi incanti in questo modo che succede? Deve essere pulito il calice fino all'ultima stilla del sangue del Signore purificate ancora il mio corpo come purificate questo calice perché dovrà presentarti immacolato al giudizio di Dio e allo sguardo degli angeli alla carezza della mamma celeste al mio San Francesco a Sant'Antonio a tutti i santi che aspettano lassù o Signore non vedi come stanno tremando di gioia di avere con loro Padre Pio ma non vedi anche il pianto delle creature che rimarranno su questa terra? Sembra in questo momento di sentire le parole del Salvatore Costei ha preparato il mio corpo per la sepoltura sembra che Padre Pio voglia profumare fino all'ultimo intimo questo calice come se volesse lavare quella carne sua che fra poco riposerà nella pace del Signore mai è stato così meticoloso come in quest'ultima messa ancora acqua ancora vino ancora purezza ancora fuoco ora si rimettono i guanti che lo coprono ah che grida che abbiamo mandato in questo momento è stato l'unico segno premonitore che Padre Pio stava per partire ci siamo spaventati tutti ma nessuno di noi ha capito tranne qualche anima eletta a cui l'aveva confidata non so come abbia fatto la folla in tutta la chiesa a mandare un urlo perché molto pochi potevano vedere questa oscillazione del Padre era l'ultimo saluto che Dio vi benedica figlioli addio dolci immagine di Santa Maria delle Grazie addio bella chiesa costruita col sudore cui sacrificia l'offerta di tutto il mondo addio dolci messe celebrate quando ancora il sole non era sorta addio sole del Gargano che nasci laggiù dalla spiaglia di Manfredonia del mare bello splendente lucente di questa mattina addio mia terra vi verrò dall'alto dei cieli e verrò a passeggiare in mezzo a voi sarò sempre presenti piccola segliola che mi hai tanto servito che Dio ti benedica o voi luci o voi rose ornerete la mia tomba addio addio a o a a a a a a a Grazie a tutti